Ciao a tutti e ben ritrovati, oggi andremo a prendere confidenza con la creazione delle percentuali che possono essere interessanti da utilizzare all'interno dei nostri report allora andiamo subito nel nostro file di esempio io qui ho creato una tabellina, quindi ho inserito tutte le informazioni poi ho fatto inserisci tabella in modo da nominarla come oggetto che è praticamente il nostro database ipotetico che arriva dal nostro gestionale esterno che ovviamente io creo sempre in Excel per praticità con l'esercizio poi prendo questa tabellina qua, dal menu dati, da tabella intervallo, la importo in Power Query e faccio una serie di calcoli per ottenere questo risultato qua praticamente oggi andremo a vedere come calcolare queste tre percentuali praticamente se ne vediamo qui è la percentuale del venduto quindi su tutto il nostro set di dati, ok, è stato venduto, sono stati venduti questi pezzi ma come sono ripartizionati i pezzi di vendita in modo percentuale? ecco qua che noi calcoliamo la percentuale sul venduto quindi questa cosa qua mi fa 100% se sommata poi andremo a fare un altro tipo di percentuale che va a fare la percentuale sulla città quindi dei prodotti venduti all'interno della città andremo a vedere come sono ripartite le varie percentuali per i prodotti della singola città infatti sommando questa cosa qua io ho 100% e poi infine faremo la stessa cosa sul prodotto quindi sull'intero set di dati dei prodotti che abbiamo venduto andiamo a vedere come è riproporzionata la vendita appunto dei singoli prodotti allora andiamo in Power Query e vediamo il tutto abbiamo editor di Power Query ok allora io qua ho la tabellina come vi dicevo l'ho importata da Excel e questa è la mia tabellina in partenza con cui poi faccio dei riferimenti con gli altri oggetti in modo da importarla sempre solo una volta quindi andiamo a fare il primo calcolo allora questa è la tabella risultante che poi io porto in Excel e il primo calcolo lo faccio direttamente all'interno della risultante quindi dalla mia origine qua qua su io ho fatto un riferimento quindi tasto destro qui riferimento e si crea appunto la mia nuova query che poi ho rinominato puntualmente in risultato da qui così appunto questa origine punta a questo oggetto qua al risultato di questo oggetto in modo da non duplicare sempre i dati da qui cosa ho fatto? ho fatto un raggruppamento quindi da qui ho fatto questo pulsante qua dal menu home raggruppa e ho fatto il raggruppamento andando sulla scheda avanzate della singola misura venduta quindi qui compare così di solito col base compare così ok che mette sempre anche una dimensione io vado su avanzate e qui la elimino la dimensione perché io voglio fare solo la somma del mio venduto in modo da avere il totale che poi ci permette di fare appunto il calcolo della nostra percentuale dopodiché cosa ho fatto? ho fatto un tasto destro qui e ho fatto drill down facendo clic sul drill down si genera questo altro passaggio e anche qui si nomina puntualmente col nome della colonna quindi totale venduto e qui il passaggio si nomina col totale della colonna così abbiamo ottenuto come abbiamo visto nelle lezioni passate l'ipotetica query abc però l'abbiamo messa qua poi io cosa ho fatto? ho fatto tasto destro inserisci passaggio dopo ok così mi crea appunto un passaggio vedete dice inserire subito dopo lui qui crea un passaggio qui io di solito mi do un metodo perché quando faccio queste cose qua e apro magari poi la scaletta dei passaggi ho bisogno che questi tipi di passaggi siano sempre ben evidenziati vi consiglio di farlo anche a voi non è un obbligo ma ve lo consiglio quindi quando faccio questo tipo di passaggio che quindi ho creato appunto il nuovo record cosa ho fatto? sono andato qua su ok perché appunto quando creo questo passaggio qua vedete io ho qui e mi dice parti dal passaggio precedente quindi no io cancello questa cosa qua ok e al posto di totale venduto ci metto origine così questa cosa qua riprende i dati che ci sono sul primo passaggio in alto origine questo qua ok e lo identifico generalmente con un qualcosa io di solito ci metto il doppio barra maggiore così quando vedo un doppio barra maggiore so che io ho sempre ripreso il dato di un passaggio precedente e quello appena precedente è generalmente sempre la fine del mio passaggio precedente quindi 1,2,3 e poi qui ricomincio riprendendomi l'origine o un altro tipo di passaggio bene ripresa la nostra origine ok qui abbiamo il totale senza aver fatto un'altra query così risparmiamo spazio sul nostro scenario ho creato una nuova colonna quindi aggiungi colonna colonna personalizzata e poi ovviamente ho rinominato il passaggio come vedete in modo che sia più chiaro ho nominato appunto percentuale venduto poi ho fatto un arrotondamento sul mio risultato e gli ho detto guarda fammi il venduto questa colonna qua diviso il totale venduto che è il nome del passaggio precedente come si fa a fare questa cosa qua? non si devono usare le quadre perché se utilizzo le quadre qui e metto questa cosa qui facciamo anche uno zoom ok se io qua metto le quadri vi sto dicendo che questo campo qua è all'interno della mia tabella però non c'è io devo andare a recuperare un passaggio precedente quindi totale venduto me lo trovo qua su se ci fosse stato uno spazio ok se qui ci fosse stato uno spazio avrei dovuto scrivere hashtag e virgolette si può anche fare con hashtag virgolette sempre così evitate qualsiasi tipo di problema qua avendo scritto un testo tutto appiccicato senza numeri e caratteri strani mi permette anche l'inserimento senza hashtag virgolette poi dando appunto l'ok con number.around rotondo a quattro cifre così poi quando vado a mettere la percentuale ho due decimali dopo la virgola e do l'ok ecco che così lui è andato appunto a crearmi la mia percentuale perfetto poi andiamo avanti e andiamo su sugli altri calcoli allora qui cosa ho fatto anche qui ho fatto un riferimento del venduto e sono andato qui a creare quest'altra query qua quindi da origine appunto vedete riferimento al venduto qui il modifica tipo non serve l'avevo messo per niente perché c'è già sulla tabella di venduto e qui c'è il raggruppamento quindi qui faccio un raggruppamento per città perché ci serve calcolare per fare le percentuali sulla città abbiamo bisogno del totale per ogni singola città e ecco che questa query qua mi serve per crearmi la mia lista con le città dopo di che cosa ho fatto sono tornato su risultato ok eravamo arrivati qua e sono andato qui e ho fatto un merge quindi da qui ho fatto home merge e ho fatto merge come ho fatto il merge gli ho detto guarda la colonna chiave di comunicazione è città e città così poi mi tiro fuori questo campo qua che appunto me lo riporta difatti se noi andiamo su table vedete agordo ok immerge la città mi trova sempre solo un record perché noi avevamo aggregato per città perfetto ottenuta questa informazione qua potremo andare ad espandere ad esempio il nostro campo e poi andare a fare l'aggiunta della colonna che ci serve però andiamo a risparmiare un passaggio perché è inutile espandere e dopo andare a fare una colonna facciamo direttamente la colonna quindi anche qui ho fatto aggiungi colonna personalizzata e ho creato questo passaggio qua allora andiamo a vedere come l'ho fatto praticamente vedete io gli ho detto vabbè c'è sempre intestata il mio number.round per fare l'arrotondamento poi gli ho detto fai sempre il venduto quindi abbiamo sempre la nostra misura che è all'interno della nostra tabella che è qua venduto diviso devo fare il diviso appunto il campo che è contenuto all'interno di questa colonna qua che è in formato table allora vediamo una nuova funzionalità che è list.first indica dalla lista estrai il primo valore quindi gli dico estrai il primo valore dal campo venduto città vedete che ci sono le quadre dal campo venduto città estrai il primo valore perché all'interno di venduto città è definita come tevo ma all'interno io ho una definizione di quell'informazione di tipo lista quindi estrai il primo valore di venduto città dal campo totale venduto città così facendo riesco a fare l'operazione quindi se io gli do l'ok e andiamo a vedere il risultato vedete lui mi crea il campo percentuale di città perché l'abbiamo appunto nominato così e mi fa la formula se io qua ci metto list ad esempio senza neanche entrare sul passaggio andiamo direttamente a mettere nell'emme qua su ci metto distinct come abbiamo visto nelle lezioni passate non funziona perché è vero che noi otteniamo una lista distinta però è sempre una lista quindi non con questa istruzione qua non diciamo a power query guarda che stiamo utilizzando un solo valore lui utilizzando questa funzione qua che abbiamo già visto pensa sempre che possiamo avere più di un valore come risultato quindi non l'accetta riporta errore e difatti dice non è possibile applicare l'operazione di divisione tipo numeri e liste perché noi comunque andiamo sempre a definire una lista se noi mettiamo appunto first non la vede più come una lista e risultato ma la vede come un numero finale perché appunto ne restituiamo solo uno e quindi diventa una lista qui c'è una nota importante perché poi quando noi siamo qua vedete che qui quando ho calcolato il percentuale venduto è venuto fuori in abc123 però dopo noi dobbiamo gestirlo come decimale quindi è sempre importante fare la formatazione quindi anche qui avremmo dovuto premere e qui e premere il numero decimale per fare la conversione creando sempre un passo che secondo me è inutile quindi anche qui vedete quando io ho fatto questa colonnina qua adesso spandiamo il codice M che c'è qua su io non ho fatto altro che nominare quindi quando lui mi crea questa cosa qua facciamo uno zoom mi crea questa formula qua adesso io tolgo questo ok vedete lui mette abc123 perfetto io lo posso fare quindi ho fatto questa cosa qua con l'intellisense all'interno appunto di questa box ho scritto la formula poi ho dato l'ok e quando ho finito sono appunto andato nel linguaggio M o su e appena prima dell'ultima parentesi ok gli ho detto come definire il campo che è type type number attenzione che è sensitive virgola type number facendo così ok io do conferma e ecco che lui mi trasforma subito il campo in 1 2 quindi se adesso andiamo qua e facciamo la stessa cosa qua ok ci metto number e gli do l'ok ecco che anche questo mi diventa 1 2 e ho risparmiato un passaggio o più passaggi se lo faccio più volte nel corso della mia creazione quindi anche questo è un altro sistema per risparmiare passaggi già qua ne abbiamo risparmiati tra 4 dei passaggi con questi trucchetti qua e la cosa interessante è che quando nominate comunque il campo gli date la formattazione il passaggio con la rotellina comunque rimane attivo ok e se andate a fare modifiche comunque questa cosa che avete inserito qua permane e quindi è un'ottima cosa questa non è che si perde la funzionalità comunque della formula anche se comunque è semplice andare a leggerla qui o modificarla qui ok abbiamo fatto la nostra seconda percentuale eccola qua poi per il momento lasciamo questa così le cancelliamo tutte alla fine andiamo a fare quella del prodotto anche col prodotto qui anche c'è il passaggio in più ho sempre fatto un riferimento del venduto però questa volta ho raggruppato per prodotto poi sono andato sul risultato anche qui ho fatto il merge con la mia nuova query venduto prodotto stesso sistema di prima e poi ho fatto un'altra colonna che però al posto di fare appunto la divisione per il totale venduto città che sta su all'interno di questo campo l'ho fatto con un totale venduto prodotto ok con lo stesso sistema che abbiamo utilizzato prima con list first così otteniamo appunto il risultato univo con un singolo valore e niente quindi ho la percentuale del prodotto poi ho rimosso appunto le table che ho mergiato perché non mi servono più e ecco che ho ottenuto il mio bel risultato fatto questo appunto l'ho importato su excel e qui vedete semplicemente compaiono tutti i numeri così quindi ho selezionato appunto le mie colonne e qui ho messo percentuale con due valori ecco che così vedete passo dal numero che avevo prima che avevo utilizzato quattro decimali ad avere appunto due decimali e ho la mia bella percentuale ecco qua questo è quanto per creare le percentuali ovviamente se cambiate se qui aveste più di una data basta cambiare il sistema con cui andate poi a fare i raggruppamenti quindi va sempre calcolato se fate appunto la percentuale su tutto il vostro set potete farla con un passaggio interno come avete visto qua se dovete fare la percentuale partendo da una parte del set perché magari anche qui avete più date quindi bisogna sempre fare la query d'appoggio portarsi dentro i totali come abbiamo visto attenzione prima di chiudere la reazione a una cosa allora la percentuale sul totale senza neanche pensarci è molto utile è sicuramente più efficiente farla in power query perché facciamo sempre il calcolo sul motore e dietro e quindi non andiamo a sprecare risorse poi quando utilizziamo il file le altre percentuali va un po' valutato di volta in volta non vi posso dare la risposta certa è meglio farle su power query piuttosto che su power pivot bisogna valutare il vostro set di dati come è fatto lo scenario la complessità tante cose sicuramente nel corso che andrò a creare anche sulle power pivot vedremo come creare queste percentuali con una singola formula DAX quindi si potrebbe evitare di creare questa tabella qua di appoggio su power query e si può evitare anche di fare i passaggi qui perché la creiamo direttamente con una formula DAX come misura però fate sempre attenzione quando voi la create su power query la potenza di calcolo viene demandata appunto lo strumento power query che si attiva nel momento in cui raffresciate l'excel quando avete finito di raffresciare tutti i calcoli sono finiti quindi chiunque andrà ad utilizzare il vostro file non andrà a sprecare risorse quindi se è solo una persona due persone che utilizzano il file può aver più senso farlo ad esempio in DAX con power pivot se ad esempio avete 200 persone che utilizzano il vostro file andare a calcolare la percentuale in DAX potrebbe essere veramente degradante perché andate a sprecare tantissime risorse lato utente mentre l'utente utilizza il report bisogna sempre veramente valutare di volta in volta cosa fate il contesto in cui lavorate chi date le informazioni e tante cose eventualmente potete fare delle prove provate a calcolarla qui provate a calcolarla in DAX e vedete un po' come risponde anche come risultato e come velocità io come sempre il DAX cerco di evitarlo per questi motivi qua perché lavoro con tante persone i miei report vanno a centinaia di persone e tutto quello che riesco a calcolare dietro è meglio perché così poi le macchine che hanno in cloud dove accedono tutte le persone non vanno a consumare tante tante risorse così risparmiano tanti soldini lato hardware bene con questo è tutto vi saluto alla prossima lezione se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi e condividetelo sui vostri social a presto ciao ciao